Una cosa è sicura, il sindaco di Due Carrare è uno scemo, è uno scemo totale e irriducibile. Questa è l'opinione del critico d'arte che non risparmia nulla al sindaco di Due Carrare sul tema del centro commerciale davanti al castello del Cataio. Il primo cittadino Davide Moro potrà di sicuro replicare a queste parole, noi lo andremo a sentire nei prossimi giorni. Intanto ha già annunciato che dopo la querela presentata questa estate procederà nuovamente contro Sgarbi per le offese. Lo Stato prende una posizione che non può essere in competizione con un piccolo comune dell'una carrara di cui tu saresti sindaco. Interviene il sottosegretario Giampiero Bocci, il quale boccia, boccia, boccia l'immondo cesso di progetto. Il critico d'arte torna a scagliarsi contro il centro commerciale, considerato uno scempio ai piedi dei colli ugani e attacca il sindaco di Due Carrare, a suo dire colpevole di non tenere in considerazione le esigenze del territorio, delle associazioni eppure del Ministero, che di recente si è espresso rispondendo ad un'interrogazione parlamentare contro il progetto della maxistruttura. Il progetto di insegnamento commerciale era stato sonoramente bocciato, quindi già bocciato, lo ripresento, non sarà ancora bocciato.